Buonasera, buonasera a tutti. Ringrazio il professor Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria ed è componente del Comitato Tecnico Scientifico che oggi mi accompagnerà nel corso di questo incontro. Per quanto riguarda il totale delle persone attualmente positive è di 80.572 con un incremento di 2.937 pazienti rispetto a ieri. Di questi 4.035 sono ricoverati in terapia intensiva, 28.403 sono ricoverati con sintomi, mentre da maggior parte 48.134, il 60% del totale della popolazione sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Oggi registriamo ancora purtroppo un numero di deceduti di 727 persone. Il totale dei guariti e dei dimessi è di 16.847 persone. Rispetto a ieri le persone guarite e dimesse sono 1.118 in più. Per quanto riguarda la CROSS, ad oggi sono stati trasferiti 103 pazienti dalla Lombardia, 7.7 in più rispetto a ieri e di questi sono 63 i pazienti con coronavirus e 40 i pazienti senza coronavirus. 30 pazienti sono stati trasferiti in Germania e voglio ancora ringraziare il governo tedesco e la Germania per aver accolto l'invito a ricevere pazienti in terapia intensiva. Per quanto riguarda le forze in campo, oggi registriamo 12.986 volontari, volontari delle associazioni nazionali di volontariato e delle associazioni locali. Questi volontari si aggiungono alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, ai sanitari che ringraziamo ancora una volta insieme a tutti gli altri per lo straordinario lavoro che stanno facendo. Il numero totale delle tende di pre-triage che sono installate all'esterno degli ospedali sono di 786, il 151 sono le tende di pre-triage negli istituti penitenziari. Per quanto riguarda il conto corrente delle donazioni abbiamo raggiunto la cifra di 94.976.000 euro finora raccolti sul nostro conto corrente e qui voglio ringraziare tutti quanti, in modo particolare tutti coloro che ieri hanno seguito l'evento Rai Musica che unisce e hanno donato a sostegno della protezione civile. Le risorse che abbiamo già speso sono oltre 8 milioni, per l'esattezza 8.133.550, stiamo effettuando dei bonifici per l'acquisizione di ulteriori dispositivi di protezione individuale su questo conto in queste ore e domani vi darò il resoconto. Una comunicazione volevo fare riguardo a una notizia che è uscita riguardo la distribuzione di mascherine ai medici di base, si tratta di mascherine che sono state distribuite per un errore logistico, sono mascherine che erano state donate al nostro Paese e convogliate attraverso l'ambasciata d'Italia in Cina, a Pechino e fanno parte di un carico di mascherine donate che erano destinate alla collettività e che per errore sono andati ai medici di base. Rimedieremo prontamente a rifornire i medici di base insieme con il commissario Arcuri delle mascherine necessarie, le famose FFP2, queste mascherine comunque possono essere utilizzate a scopo collettivo ai sensi dell'articolo 16 del decreto legge 18. Ultima informazione che voglio dare è che abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di raccolte fondi non autorizzate dal Dipartimento, anche attraverso i canali social a nome del Dipartimento. Oggi in particolare ho segnalato all'autorità giudiziaria, all'autorità di Polizia competente una pagina Facebook che fingeva di essere il sito ufficiale del Dipartimento, una pagina ufficiale del Dipartimento e proponeva la raccolta con un IBAN a noi sconosciuto. Per questo voglio invitare tutti quanti coloro i quali vogliono fare delle donazioni in favore del Dipartimento a effettuare le donazioni sul conto indicato sul nostro sito. Grazie, io mi fermo qui, darei la parola al Professore Villani. Prego Professore. Grazie Dottor Borrelli, buonasera, sono pediatra e quindi il punto è proprio sulla situazione dei bambini. In Italia resta confermato che non ci sono decessi, che non ci sono bambini in condizioni gravi e il dato che quando e se un bambino contrae il coronavirus, per fortuna ad oggi si tratta di situazioni cliniche gestibili lievi. Abbiamo anche riportato casi di neonati, ma anche in questo caso sono situazioni tutte estremamente tranquille, quindi questo è sicuramente un dato confortante. Diamo spazio alle vostre domande. Buonasera, Paola Motta, SkyTG24. Confermando la proroga delle misure fino al 13 aprile, il Ministro della Salute e Speranza ha invitato a non cadere in facili ottimismi. Nelle ultime 24 ore abbiamo sentito di una circolare del Viminale che autorizza due passi intorno a casa con il figlio e abbiamo anche sentito che il Comitato Tecnico Scientifico stia valutando la possibilità di concedere un'ora d'aria di gioco per i bambini. Ora, non vi sembra che tutte queste possibilità diano un messaggio completamente opposto rispetto a quello restate a casa? La ringrazio moltissimo di questa domanda che consente di fare chiarezza su un tema che effettivamente è molto vissuto in queste ultime ore. Credo che la circolare del Ministero vada letta per come è stata scritta e lì è chiaramente indicato che si fa riferimento a tutte quelle che sono le limitazioni vigenti. Quindi non c'è nessun cambiamento di quelle che sono le strategie e le politiche finora in atto che sono quelle proprio che ci hanno dato i risultati che avete ascoltato anche questa sera sono di contenimento. Siamo ancora in questa fase ricordandoci che stiamo affrontando una situazione straordinaria, particolare, complessa, per cui assolutamente nulla cambia rispetto a quello che è stato detto. E questo resta. Per quanto riguarda il Comitato Tecnico Scientifico, il Comitato Tecnico Scientifico non ha liberato nessuna nuova indicazione, quindi anche su questo è bene essere chiari. Se invece si inizia a ragionare in termini di ciò che possa accadere dopo, e questo è un altro paio di maniche, nel senso che è giusto iniziare a considerare tutta una serie di situazioni, anche perché è giusto ascoltare quelle che sono le segnalazioni, le indicazioni che ci vengono da associazioni, di famiglie, di malati, e quindi è giusto far tesoro di queste segnalazioni e prepararsi. Tant'è vero che con il Ministro della Famiglia e delle varie opportunità, l'On. Elena Bonetti, con l'On. Sandra Zampa, che è alla delega per il Ministero della Salute alle questioni che riguardano l'infanzia, abbiamo rappresentato al Signor Ministro Roberto Speranza, Ministro della Salute, queste istanze, proprio per iniziare una progettualità nel tempo per tener conto di queste istanze. Allora, le ripeto, non è questione di essere favorevoli o contrari, esiste un DPCM che chiaramente indica che non è consentito fare assembramenti, non è consentito uscire di casa se non per una motivata ragione. Quindi tutto resta esattamente com'è. Come Società Italiana Pediatria, ma non solo, insieme anche ad altre associazioni, l'Associazione Culturale Pediatri, diamo una serie di indicazioni. E c'è una bellissima trasmissione a Rai 1, che si chiama Diario di Casa, in cui vengono ribadite le indicazioni per organizzare la giornata dei bambini. Credo che comunque, qualora esistano delle situazioni particolari e si esca di casa con un bambino rispettando le norme, ma perché c'è un motivo per farlo, questo, come prima, rimane adesso. Ma non c'è nessun motivo per cui un bambino, faccio un esempio, di pochi mesi venga portato a spasso in carrozzella. Questo non c'è nessuna indicazione e non va affatto, sarebbe imprudente. Dobbiamo ricordarci che stiamo ancora in una fase in cui esporsi a dei possibili e probabili contagi può essere estremamente dannoso per tutti. Sì, Angela Caponnetto, Regno S24. Mi riallaccio alla domanda della collega, perché da ieri, da due giorni, più o meno si parla di picco, e quindi siamo arrivati al picco, la situazione sicuramente è di flat, vediamo i dati sono positivi, ma possiamo veramente parlare di picco perché glielo chiedo? Perché nel frattempo succede che in Sicilia cominciano a uscire, mi mandano dei messaggi, arrivano anche da altre parti d'Italia, cominciano a uscire, si stanno addirittura preparando per la Pasqua, per effettuare Pasqua e Pasquetta tutti insieme. Il dottore Aurelio Puleo, direttore del pronto soccorso di Villa Sofia, invece lancia un messaggio allarmato, attenzione, restate a casa perché sennò cominceremo a contare i morti anche in Sicilia. Lo stesso Ministro Speranza dice, non cediamo a facili ottimismi, possiamo parlare di picco? Che cosa dobbiamo dire a questo punto ai cittadini italiani? Grazie. Guardi, la ringrazio moltissimo e credo che la comunicazione, quindi tutti voi potete esserci di grande aiuto, nel ribadire che nulla è cambiato rispetto a quello che è previsto dall'ultimo DPCM. Quindi il messaggio è stare a casa, questo è quello che deve essere ben chiaro a tutti, proprio perché è una situazione importante, dobbiamo rispettare quelle che sono le normative vigenti. È auspicabile in futuro che qualcosa possa cambiare, quando e se questo si verificherà ci sarà un apposito DPCM che stabilirà ciò che si può fare e ciò che non si può fare. Ma guardi, siamo al picco o no? È veramente un, come posso dirle, un argomento di scarsissimo interesse. Quello che le posso ribadire è che siamo in una situazione, è una terminologia che dispiace usare perché mi rendo conto che non è rassicurante, però siamo di fatto in una situazione emergenziale, tipo una guerra e quindi dobbiamo rispettare rigidamente le indicazioni che ci vengono date. Siamo veramente fortunati, questo va ribadito a tutti i cittadini, di vivere in un Paese in cui c'è la Costituzione che tutela la salute come bene primario, abbiamo un Ministero della Salute molto efficiente, abbiamo la Protezione Civile, l'Istituto Superiore di Sanità, l'AIFA, tutta una serie di istituzioni solidissime che possono indicare quello che deve essere fatto. Dobbiamo rispettare quelle che sono le indicazioni. Ricordo a tutti con orgoglio che nel mondo si parla di modello Italia, proprio per quello che stiamo facendo. Buonasera, sono Mauro Evangelisti del Messaggero. Volevo chiedere, notavo che il numero dei nuovi ricoverati è molto basso oggi, all'incirca 200, poco più di 200, e lo stesso vale per le terapie intensive. Volevo capire che motivazione c'è dietro questo numero, se la situazione sta oggettivamente migliorando o se sono cambiate anche le strategie di assistenza dei pazienti. L'altra cosa che mi colpisce è che anche le terapie intensive, per fortuna, hanno un aumento, un incremento molto basso. Potrebbe essere arrivato il momento di potenziare la solidarietà delle regioni, definiamole più fortunate, con meno casi, nei confronti di quelle più in difficoltà? La ringrazio anche molto di questa domanda. Credo che questi dati possano e debbano essere interpretati come la bontà del percorso che è stato intrapreso e di tutto ciò che stiamo facendo. Ma è una conferma della necessità di continuare esattamente in questa direzione facendo ciò che stiamo facendo. Quindi sicuramente sono dei segnali che vengono valutati con attenzione che rappresentano anche per certi versi quello che poteva essere un auspicabile atteso, ma resta ben chiaro che bisogna continuare su ciò che viene fatto con determinazione. Buonasera, Daniele Petraroli, Tg2. Innanzitutto una precitazione sulle mascherine di cui ci ha detto prima. Ha detto che erano destinate alla popolazione e non ai medici. Però io ho letto in agenzia che fossero FFP2, quindi magari questo se ce lo può smentire o confermare, cioè capire un attimino meglio. Poi la domanda che invece volevo fare era se può chiarirci i criteri con i quali vengono effettuati i tamponi, nel senso che ci sono moltissime persone sintomatiche anche con febbre alta e in isolamento domiciliare a cui non viene fatto il tampone. Qual è la motivazione? È perché vengono considerate sicuramente Covid, non c'è bisogno? E poi, le aggiungo un ulteriore elemento, i familiari che a quel punto sono costretti a stare in quarantena senza un tampone positivo non hanno la possibilità di astenersi dal lavoro. Questo è un problema non da poco. Grazie. Allora, riguardo alle mascherine, sull'involoco esterno dei plichi era indicato così come sulla lista di carico FFP2-KN95. Quindi noi abbiamo distribuito queste mascherine, in realtà poi all'interno non erano mascherine FFP2 e quindi per noi andavano distribuite alla popolazione. Quindi confermo che queste mascherine possono essere utilizzate per un uso della popolazione e non per un uso da parte dei medici. Per questo noi ci siamo scusati con l'ordine dei medici e abbiamo detto che con i prossimi arrivi, col commissario, daremo corso alla consegna delle mascherine FFP2. Per quanto riguarda la politica dei tamponi, i tamponi così come prevede dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, poi mi correggerà se sbaglio il professore Villani, sono effettuati solo quando ci sono sintomi, sintomi evidenti, difficoltà respiratorie. Quindi sotto questo profilo possono esserci anche delle persone lievemente sintomatiche che non fanno i tamponi. Questo è quello che penso. Giusto, professore? Confermo, dottor Borrelli, di rassicurare coloro che hanno realmente bisogno del tampone il tampone viene eseguito. Quindi se non viene eseguito evidentemente non c'è l'indicazione a farlo. Per chiarirci, quindi, faccio un esempio che conosco personalmente, 38 e mezzo di febbre non è indicativo di un problema... Allora, la sola febbre non costituisce un'indicazione, ma come abbiamo più volte ripetuto e ci sono tutta una serie di indicazioni che possono essere trovate sui diversi siti dal Ministero della Salute all'Istituto della Sanità, esistono dei numeri da contattare nonché il medico curante. Quindi qualora il medico curante o quando si contatta il numero ravvede le condizioni e come ha giustamente sottolineato il dottor Borrelli la difficoltà del respiro, per esempio, può essere un segnale che merita la massima attenzione confrontandosi o con il medico curante o con uno dei numeri di riferimento si arriva poi a decidere chi è destinatario della necessità di fare il tampone. Guardi, è molto importante, e la ringrazio questa domanda, rassicurare la popolazione che, ripeto, è una situazione emergenziale, molto complessa, molto difficile, ma è tutelata. Io credo che ognuno di noi si senta molto contento di vivere in Italia e di essere italiano, mai come in questo periodo nessuno di noi vorrebbe stare in un altro paese. Buonasera, sono Cecconi del Tg3. Chiedo ancora riguardo alle terapie intensive. L'aumento è veramente esiguo di coloro che si trovano in terapia intensiva. Siamo nell'ordine della decina rispetto a ieri. E siccome continuano ad arrivarci messaggi magari di anestesisti che dicono noi dobbiamo scegliere fra chi salvare, eccetera, ci viene da pensare che si vada in terapia intensiva meno perché ci sono meno posti. Io vi chiedo sempre se questa cosa vi risulta oppure no, oppure è cambiato l'approccio e quindi c'è meno bisogno di terapia intensiva perché a parità di casi, a parità anche di morti, in terapia intensiva quasi non si va più. E onestamente si spiega un po' male. Allora, per quanto riguarda i posti di terapia intensiva voi sapete che sono stati ampliati. L'altro ieri o ieri ha fornito i dati il commissario di quello che è che è i posti di terapia intensiva che sono stati realizzati con l'acquisizione delle strumentazioni reperite in emergenza. Noi abbiamo in atto un sistema che è quello della centrale CROSS e come avete visto abbiamo trasferito pazienti dalla regione Lombardia alleggerendo. A me non è arrivata alcuna segnalazione di persone che non sono riuscite ad entrare in terapia intensiva. Quindi almeno per quello che è dato a constatare a me e non credo che sia arrivata anche all'opinione pubblica questo tipo di informazioni. Ci sono gli ospedali, soprattutto quelli della Lombardia, lo sappiamo tutti quanti, sono veramente molto impegnati, sono al limite ma con il lavoro dei medici, dei rianimatori si soccorre, credo a mio giudizio, tutti coloro i quali ne hanno bisogno. Questo fatto che i numeri di pazienti in terapia intensiva è sceso, ieri era il di 42 persone, oggi solo 12 ci conforta nel fatto che riusciamo a mantenere e a preservare quella capacità di cura nelle terapie intensive residua che abbiamo. Noi dobbiamo fare di tutto e voglio chiudere su questa domanda per evitare quei comportamenti rischiosi che sono stati detti prima si avvicinano la Pasqua, andiamo a fare la Pasquetta. Assolutamente no. Dobbiamo rimanere a casa, dobbiamo stare ancora pienamente nel rispetto di quello che è il distanziamento sociale e lavarci spesso le mani, adottare quei comportamenti che ci stanno portando a dei risultati positivi anche se a costo di sacrifici notevoli per il Paese e per ognuno di noi ma lo dobbiamo fare per il nostro bene e per gli altri. Se posso aggiungere, Dottor Borrelli, ricordandoci anche che l'impegno della terapia intensiva con questa malattia non è per uno o due giorni. I pazienti che arrivano in terapia intensiva hanno bisogno di cure intensive dalle due alle quattro settimane. Quindi è importante mantenere rigidamente i comportamenti che abbiamo perché essendoci proprio questo tipo di situazione la necessità di una degenza molto lunga è bene che la situazione sia governata così come avviene adesso. Per quanto riguarda gli approcci terapeutici e per il resto che era parte della sua domanda tutto prosegue così come stabilito da tempo quindi non ci sono novità particolari. Allora grazie, grazie a tutti, buonasera. Buonasera, grazie. Grazie a tutti.